allora non si riesce a vedere ma in realtà c'era scritto crea il tuo miglior futuro ed eccoci ritornati a una nuova puntata del rich fit breakfast ancora una volta insieme in questa mattina totalmente dedicata alle news del fitness e andremo a vedere nello specifico alcune di quelle che sono accadute proprio durante la scorsa di settimana che in realtà trasformerà il rich fit breakfast più in un telegiornale in un tg piuttosto che in realtà in quello che è il nostro il core rich fit breakfast ma scherzi a parte iniziamo subito la nostra puntata e vi dico subito tratteremo alcuni degli argomenti come la riapertura dei club in valle d'aosta e dall'altra parte il fitness outdoor di macfit notizia uscita proprio la scorsa settimana dove hanno iniziato con questa modalità in outdoor per aiutare i propri clienti all'allenamento che ha destato non poche critiche anche da parte di molti colleghi e di molti operatori ma tralasciando tutto questo innanzitutto se è la prima volta che sei qui sul nostro podcast rich fit breakfast io sono emanuele pianelli co fondatore di rich fit insieme a paolo ricchi e in questa serie nel nostro podcast andremo ad analizzare quelle che sono poi le notizie settimanale quotidiani in alcuni casi che possono dare un impatto e soprattutto anche una riflessione in realtà su quello che è l'andamento non solo in un periodo critico come questo ma in generale per raccogliere spunti dall'altra parte per riuscire a comprendere anche meglio ancora meglio alcune delle azioni ma oggi nello specifico andiamo a vedere andiamo a trattare queste due macro notizie da una parte abbiamo la valle d'aosta che con la nuova ordinanza dà l'opportunità di poter ripartire per quanto riguarda il fitness con le lezioni chiaramente uno a uno soltanto con il personal trainer o comunque allenamenti personali riservando uno spazio pari a 20 metri quadrati per ogni persona e dall'altra parte come già anticipato macfit annuncia questa novità per i propri clienti portando e dando l'opportunità per l'appunto di potersi allenare in venti delle sedi attraverso quelle che sono delle tensostrutture ancora una volta al fianco dei propri clienti per dare continuare a erogare servizio notizie in entrambi i casi che hanno destato non poche critiche e parlo da parte di tutti e perché dico questo perché è impressionante incredibile questo ci riporta veramente a uno dei concetti più importanti come tutto quello che fanno gli altri sia sempre un problema o comunque facile o comunque impossibile per noi da portare avanti e quanto qualsiasi soluzione non vada bene mai per i negazionisti del successo adesso non voglio utilizzare parole sbagliate però voglio dire è quello che sostanzialmente accade sempre si ha la possibilità da una parte di poter aprire eh sì ma solo l'uno a uno varrà bene per determinate due strutture non per altre eh sì ma come si fa se poi le persone eh sì ma come eccetera eccetera dall'altra parte outdoor eh ma loro possono farlo perché hanno i soldi eh ma loro possono farlo perché hanno i clienti e poi ancora ma loro sono grandi loro sono piccoli eh loro hanno i soldi loro hanno poche esigenze di soldi ehm stessa cosa quando si parla di riapertura c'è la possibilità di riaprire sì ma è un problema non sappiamo come reagiranno i clienti forse sarebbe meglio che ehi ragazzi per ogni soluzione c'è sempre un problema ecco io li chiamo i problematori di soluzioni ora noi siamo imprenditori lavoriamo nel mondo del fitness da un punto di vista imprenditoriale quindi siamo non dal livello di chi semplicemente frequenta ma di chi eroga produce servizi per le persone ed è fondamentale andare a comprendere in che modo poter trovare soluzioni in un periodo in questa diamine di maratona infinita in questa sfida chiamata blocco forzato causa covid che devono ogni volta ogni soluzione poter portare un passettino avanti la nostra azienda piuttosto che rimanere fermo perché vedi criticare è veramente semplicissimo poter dire che ogni volta per qualcuno è più semplice o più difficile o inutile o diverso per i clienti o per altro non fa altro che giustificare quella che potrebbe essere semplicemente l'inerzia quello che potrebbe essere semplicemente la speranza il voler sperare che qualcosa cambi da solo noi siamo chiamati a trovare delle soluzioni e ogni volta dobbiamo andare a comprendere in che modo queste soluzioni e se queste soluzioni possono essere adattate e adattabili alla nostra condizione ma non dobbiamo partire dal presupposto che non si può fare non si può fare nulla il problema vero è se non hai idea di cosa fisicamente fare quindi sei totalmente fermo vorresti fare ma non sai minimamente da dove partire e quella è una condizione completamente diversa e a tuo supporto abbiamo creato anche un webinar lo trovi qui in descrizione ed è fondamentale comprendere come esistano diverse strategie che puoi tranquillamente implementare e che hanno già aiutato oltre 112 imprenditori nel mondo del fitness e te le ritrovi lì quindi se non hai assolutamente idea di dove partire lì e dove trovi degli spunti e delle strategie che hanno già dato i loro risultati cosa diversa se in realtà non è un problema di non sapere cosa fare ma di non voler fare bene amico mio lì il problema è assolutamente tuo devi comprendere come in realtà il rischio più grande di rimanere fermo sia quello solo esclusivamente di non poter arrivare alla fine o arrivare alla fine di questa sfida infinita stremato senza un euro nel cassetto il lavoro primario che dobbiamo fare oltre a proteggere il nostro asset più importante che sono i clienti dall'altra parte la nostra cassa la dobbiamo movimentare e non possiamo rimanere fermi ad aspettare che qualcosa accada perché ancora una volta non accadrà perché l'unica cosa che puoi permetterti di fare è quella di agire e seguire delle strategie che possano darti dei risultati e non puoi rimanere in attesa che qualcosa accada non sono più i tempi non ci sono più i tempi per poter aspettare per poter attendere che qualcosa accada certamente non è detto che tu possa seguire i big player perché non è detto che le strategie implementate da loro siano alla tua portata o che tu possa direttamente permettertele o potrebbero direttamente non essere interessanti per te ma questo non deve portarti all'inazione un'unica certezza rimanere fermo potrebbe costarti troppo potrebbe avere un costo estremamente alto che potrebbe essere causa di una possibile chiusura realmente definitiva non perché detta dall'alto ma perché dall'altra parte non ci siamo messi in tempo non abbiamo fatto azioni nei confronti ai nostri clienti non abbiamo mantenuto attivo il nostro parco clienti non abbiamo creato nuove opportunità non abbiamo monetizzato i nostri impegni i nostri sacrifici non siamo riusciti a creare le condizioni per poter operare in quello che sarà comunque un anno totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo sempre conosciuto nel passato tutte le azioni tutto quello che si conosce rispetto a ieri non è detto che porti da nessuna parte e questo lo puoi vedere con la prima esperienza già fatta non ci voglio ritornare sopra ma abbiamo già avuto delle esperienze fatte su giugno luglio agosto del 2020 dove post chiusura obbligata abbiamo avuto di nuovo l'opportunità di riaprire oltre il 30 per cento dei clienti non è rientrato quindi sappiamo esattamente in che modo può andare e quali sono i possibili scenari futuri e quindi è fondamentale capire che l'unica cosa che non possiamo permetterci quello di rimanere fermo ma al contrario dobbiamo spingere per poter ottenere tutto quello che può darci maggiore sostegno e sostenibilità per domani per continuare a operare per continuare a soddisfare i nostri clienti perché non è detto che possiamo continuare a farlo nella stessa maniera in cui lo facevamo prima o meglio probabilmente l'unico modo in cui neanche prima poteva cambiare le sorti in nessun modo era quello di rimanere tradizionalmente legati all'abitudine di avere persone che da sole inciampavano in palestra venivano sbattevano e si iscrivevano e dall'altra parte l'unica cosa che avevamo in mezzo era l'abbonamento ma di questo ne parliamo all'interno del webinar dove poter prendere quelle che sono alcune delle nozioni più importanti delle strategie che come già detto anche all'interno di questo video hanno già fatto davvero la differenza per diverse decine di imprenditori quindi direi che per oggi è tutto il nostro Rich Fit Breakfast si conclude qui e ci vediamo alla prossima puntata con nuove news un abbraccio ciao ragazzi